Cammello, cammello, e cammella. Ma che ci attaccano adesso? Perché? Ah, perché sono legati, quindi camminano strani. Capito? Sperate che questo qui mi fa mangiare in macchina, eh? C'ho gli Oreo io. Ehi, ce lo fa? Devi girare, Rafi. Cosa? Ehi, fallo girare. In che senso? Ehi, chiudi. No, eh. Cosa fa? Ehi, … Find some peanuts!